Il lavoro che facciamo con l'Università Partenope è molto importante perché noi stiamo non solo cercando di dare attraverso gli studi che vengono emanati insieme all'Università valore al lavoro fatto dalla classe di trasporto aerologistica ma in verità stiamo anche cercando di far conoscere tutto quello che facciamo ma soprattutto dobbiamo formare ragazzi eccellenti. La collaborazione con l'Università ha sicuramente portato dei grandi risultati non dobbiamo dimenticare che il fondatore di questa azienda, mio nonno di cui con orgoglio io porto il suo nome, ha studiato all'Università Partenope abbiamo tantissimi ragazzi, oggi molti manager del nostro gruppo che si sono laureati alla Partenope e devo dire la verità che hanno delle skill e delle conoscenze soprattutto in quelle che sono i dipartimenti del mare quindi avere una Università che sia un po' l'Università del mare che guardi al mare è fondamentale. Il nostro settore, quello del trasporto e della logistica richiede dignità e soprattutto anche rispetto nei confronti di un grande lavoro fatto. Proprio in questa direzione, ecco la nostra associazione di ALIS e anche insieme al gruppo Grimaldi che abbiamo stretto una seria e importante collaborazione con l'Università Partenope di cui oggi con orgoglio sono anche parte del Consiglio di Amministrazione. Proprio su questo tema noi stiamo lavorando con la nostra associazione ad esempio e oggi già in verità è attiva a un canale del trasporto e della logistica. ALIS Channel è un progetto innovativo un progetto che vuole far conoscere tutto il lavoro che le associazioni, che tutto il cluster, l'Università, gli enti di ricerca e di sviluppo così come l'ITS stanno facendo proprio per cercare di diffondere non solo la cultura del trasporto e della logistica ma soprattutto il grande lavoro che stiamo facendo. Noi siamo una piattaforma logistica naturale abbiamo migliaia di chilometri di coste che oggi possono rappresentare una vera e propria opportunità e un grande volano, soprattutto per il nostro sud. Grazie per la visione!